Ma tu che sei sommelier, come hai fatto a diventare sommelier? Come si fa a diventare sommelier? In realtà è un percorso di circa un anno e qualche mese che comincia a breve, martedì 18 settembre, presso la distilleria San Rocca IV in località Torrande Maio IV Vi aspettiamo infatti lì alle 20.30 di martedì 18 settembre per cominciare insieme questo percorso che dura circa un anno e qualche mese suddiviso in tre livelli diversi dove andremo ad imparare tutto ciò che concerne il mondo del vino ma non solo quello, anche quello della birra, dei distillati nel secondo livello si affronterà un discorso più relativo ai vini in Italia ai vini francesi, i disciplinari, le giurisdizioni, i vini nel mondo dove il mercato di oggi più ce li richiede fino ad arrivare a un terzo livello interamente dedicato all'abbinamento tra il cibo e il vino ossia l'apoteosi, quello che è il piacere e non gastronomico un livello intero dedicato all'abbinamento dopo questo percorso un esame finale e diventerete anche voi sommelier per cui tu che ancora non sei sommelier ma lo vuoi diventare ti aspettiamo martedì 18 settembre presso la barricalla Guglielmo Levi della distilleria Serroque alle ore 20.30 per cominciare con noi questo meraviglioso percorso insieme grazie a tutti